In soli sei mesi si libera dal lavoro e oggi guadagna più di 6.000 euro al mese. Questa è la storia del nostro Cristian. Ciao a tutti cari ragazzi, qui il vostro Johnny Cash, top coach e formatore di tutti i coach in Liberi dal Lavoro. Cristian, ciao! Ciao Johnny, ciao ragazzi. Come hai conosciuto Liberi dal Lavoro? Ho conosciuto Liberi dal Lavoro online perché ero alla ricerca di un metodo di guadagno che potevo potermi staccare da quello che era il mio lavoro da dipendente, quindi praticavo un po' di match betting e quando ho visto i primi video di Paolo che parlava di questa community sono subito stato attirato. Quindi sono entrato da subito, ho iniziato a vedere i primi video, a fare subito azione, quindi a vedere i miei primi guadagni e poi da lì è stato sempre un crescendo, anche se i primi 6 mesi diciamo ero un po' non titubante ma l'ho fatto un po' a rilento. Poi a un certo punto quando ho deciso di prendere in mano la situazione proprio di avere una svolta, di farmi seguire dai coach e da lì nel giro di 6 mesi è stata proprio una svolta. Perché nel giro di quei 6 mesi ti sei liberato dal lavoro. Sì, è stato il passo decisivo perché dopo che mi sono liberato in realtà dal lavoro ho avuto un aumento esponenziale del mio cash flow, dei miei guadagni ed è stato anche un modo per poter fare una crescita personale all'interno di questo percorso. Oggi quanto guadagni? Sì, guadagno dai 5 e anche oltre 6k a mese, quindi sono contento in questo momento. Quanto tempo dedichi a questa attività? Non mi porta via più di 4 ore al giorno, quindi ho liberato tempo e nel tempo che ho mi dedico allo studio e ho intrapreso una nuova attività che sto portando avanti e quest'anno è la parte dove voglio mettere il focus. Ti senti cresciuto come persona? Sicuramente sì, perché all'interno del percorso ci sono stati tanti momenti di crescita, si parla anche di mindset, di aspetti oltre al business, diciamo al mero scopo di guadagnare perché si va a parlare di tutta la sfera emotiva, emozionale della persona, dei desideri, di quello che uno vuole, quindi ci sono tanti aspetti positivi. Un percorso che consiglio a tutti perché mi ha permesso di vedere, non so, quello che prima magari mi sembrava un problema, dopo non lo vedi più come un problema, lo vedi come un'opportunità di crescita, qualcosa da, una sfida da superare. Quello che erano i miei obiettivi all'inizio dell'anno, adesso non li vedo più come, diciamo, degli obiettivi perché ormai li ho già raggiunti, ne ho fatti dei nuovi e un altro aspetto positivo, ho conosciuto all'interno della community tante persone che ti supportano, con cui si può condividere e si fa insieme un percorso fantastico. Grazie Cristian. Ciao ragazzi, ciao Gianni. Grazie a tutti.